creativi ironici divertenti e come sempre molto molto colorati i cosplayer sono tornati a invadere lucca affollando piazze soprattutto la passeggiata delle mura nei giorni dei comics and games ce ne sono davvero per tutti i gusti arrivano da tutto il paese in cerca del loro attimo di gloria una bella posa per una foto un video è la prima volta che viene luca comics non è la prima volta cos'è che ti spinge ogni anno a ritornarci le persone anche solo il fatto che dopo il covid la gente sia tornata qui tutta insieme per stare bene insieme è una cosa che fa stare bene anche me di sicuro uno spiccatissimo lato nerd una conoscenza del mondo dei videogiochi del mondo del manga mondo delle serie tv e la voglia di regalare anche magari attimi di felicità a qualcuno perché vedere anche magari il sorriso di un bimbo che ti viene a chiedere una foto piuttosto che il genitore perché io sono sub zero un personaggio di mortal kombat storico faccio più foto con i bimbi cresciuti che con i bimbi piccoli beh ci svegliamo una mattina che si fa questo e per cui dalla dall'immaginazione dalla fantasia partono i nostri cosplay ci piace molto quando gente vedono le cose belle ci piace molto fare le fotografie siamo felici che veramente possiamo realizzare tutto con le nostre mani diciamo quello e mi piace l'atmosfera del lucca comics in generale poi sono contenta che dopo il covid si possa comunque ripare tutto quasi alla normalità e niente mi piace o la passione di rifà di fare i cosplay in maniera diciamo diversa dal solito ovvero zombificata tra virgolette perché io vendo giocato al vintage girerò anche gli stand per fare acquisti e in più anche divertirsi travestendomi da personaggi cos'è che attira così tanto il lucca comics penso che sia il fatto che comunque è proprio bello poter vivere in cospi all'interno di una città non per forza tenendosi rilegate all'interno di stand o cose del genere ma proprio tutta la città aperta ai cosplayer lei chi rappresenta io rappresento un originale inventato da me si chiama irte il distruttore la quale la passione che lega così tanto e le persone lucca comics lucca comics è bello perché la fiara più grande d'europa del genere e poi si ritrovano tanti amici c'è una bellissima città che fa da cornice e poi c'è di tutto e di più per chi ama il mondo nerd piace tanto lucca comics crea anche ogni tanto un po di problemi a volte si appunto abitando a lucca sappiamo un po di cose anche proprio di persone che abitano a lucca che si lamentano un po ma noi abitando a lucca non ce ne frega nulla ci piace così